Mister, allora possiamo dire che questa sconfitta è figlia dei tanti errori commessi oggi dei suoi giocatori in avanti e in difesa? Alcuni errori sicuramente imperdonabili da giocatori di Serie B? No, abbiamo preso tre gol in fotocopia, tre palle in uscita, perse tutte le tre le palle, abbiamo preso tre gol. E poi, quando tu hai su un campo così, nel primo quarto d'ora, c'hai tre palle e gol, una bisogna farla. Purtroppo nel calcio poi chi sbaglia paga, così è stato. Però quello che non mi è piaciuto è proprio la predisposizione al sacrificio, alla fase di non possesso palla. Non l'abbiamo fatta bene, non l'abbiamo fatta con la giusta... Dobbiamo essere tignosi, non ci siamo stati. Perciò non mi è piaciuto tutto questo. Dobbiamo riordinare le idee, rimetterci lì e cercare di essere più concreti. Meno belli, ma molto più concreti. Avete permesso forse con troppa facilità al Verona di ripartire in alcune occasioni, al di là degli errori dei singoli. Sì, sì, è vero, abbiamo concesso molto e questo non va bene perché in queste categorie non puoi commettere questi errori qua. Questa partita ha messo anche in evidenza un altro aspetto, insomma, che in attacco segna la prima gare e un po' litigato con il gol. Ma lui si è sempre trovato lì, ha avuto le possibilità, non le ha fatte. Può capitare un momento negativo, deve solo continuare a lavorare e basta. Sempre antipatico parlare di singoli, però questa sera, così come era accaduto a Perugia, c'è stato, a nostro avviso, un errore di castrati. In occasione del primo gol, probabilmente il portiere del Pescara poteva fare di più. No, potevamo fare di più tutti, non solo il portiere, ma anche il centrale che doveva uscire, non farlo calciare, non perdere la palla in uscita. Tutte queste situazioni sono figli di errori che abbiamo fatto che ci costano caro, perciò dobbiamo stare attenti a questi in questo momento qua. Ora arriva questa sosta, probabilmente una sosta che ci voleva per recuperare anche qualche giocatore importante. Mi riferisco soprattutto a Fiorillo e Campagnaro. Sì, vediamo adesso Fiorillo, Campagnaro, Canutè, purtroppo in questo periodo abbiamo avuto diversi infortuni, abbiamo recuperato Antonucci questa settimana, che ci hanno un po' penalizzato da questo punto di vista, però dobbiamo guardare avanti e cercare di migliorare. L'ultima cosa, lei dopo il pareggio con l'Ascoli aveva detto, sarei preoccupato se la squadra non avesse costruito occasioni da rete. Questa sera Pescara ha costruito tante occasioni da rete, ma è uscito sconfitto da Verona. Continua a non essere preoccupato? No, la preoccupazione, quando fai questo mestiere non devi avere preoccupazioni, devi vedere dove sbagliamo, devi vedere le cose che dobbiamo correggere, essere attenti a questi, perché se noi correggiamo certe situazioni potremmo essere una squadra che qualche punto in più potremmo avere.